Leonardo Silva Revisore Non ho mai pensato veramente che fare l'illustratore fosse un lavoro possibile. Sinceramente pensavo che per pagare le bollette, pagare l'affitto per chiunque avesse un'attitudine al disegno o all'illustrazione alla fine sarebbe stato meglio fare un qualcosa di più concreto come lavorare come grafico, come pubblicitario. Ecco perché all'inizio della mia carriera ho lavorato come art director in pubblicità. Poi un'altra convinzione che avevo era quella che no matter what, alla fine sarei finito a vivere e a lavorare a New York, la città dei miei sogni. Ecco che per coronare diciamo più la seconda parte decido nel 2012 con la mia ragazza di partire per New York per la nostra prima volta lì. La classica vacanza, dieci giorni in relax. Poi io, in maniera astuta, avrei piazzato qualche colloquio, qualche incontro per capire il mercato, insomma, se come art director fossi stato a livello del livello medio americano. Quindi nel 2012, ottobre 2012, atterriamo, però già qualcosa non torna. Il pilota, appena arrivati, si scusa di un qualcosa e dice una certa Sandy, ce ne freghiamo, non ho capito, non importa. Andiamo in città, andiamo a Manhattan e passeggiamo felici. Però ci accorgiamo che fuori dai negozi ci sono dei cartelli che ho scritto per colpa di Sandy chiuderemo alle tre, per colpa di Sandy i mezzi pubblici smetteranno di funzionare verso le tre e mezza, non capiamo. Cominciamo a chiedere in giro e scopriamo che sarebbe successo questo. New York da lì a qualche ora sarebbe stata, diciamo, invasa da una tempesta a uragano che spegne, ha spento metà New York, da Times Square in giù, bloccando la città. Mezzi pubblici non funzionavano. Traffico incredibile, perché ovviamente tutti si mettevano in macchina. Noi dei nostri dieci giorni, cinque, sei, li abbiamo passati chiusi in albergo dove ci avvertivano di non uscire per non rischiare la vita. i restanti quattro giorni a passeggiare per una città fondamentalmente inutile. E ovviamente anche i miei colloqui, perché uffici chiusi, nessuna possibilità di fare proprio neanche una mezza chiacchiera. Quindi rientriamo in Italia. Questa cosa mi brucia un po', e continuo a crescere e crescere. Nel 2013, quindi neanche tempo sei mesi, decido che ci devo provare con più convinzione. Però devo andarci convinto, devo andarci preparato. Quindi decido che devo contattare tutti i grandi art director delle agenzie pubblicitarie e nel caso non mi avessero risposto, mi sarei presentato di persona. In contra sorpresa, eccomi qua, guardami, ci sono. Però non voglio nessun paracadute, non voglio alibi, non voglio motivi per mollare. Quindi do le dimissioni. Non ho un lavoro, sono disoccupato, parto per New York. Per attirare l'attenzione dei direttori creativi, disegno la mia storia. La mia storia illustrata, senza stare a scrivere la mail. Ciao, scusami, sono. No, ti racconto la mia storia come un libro per bambini. Questi sono i clienti mostruosi, terribili, che mi chiedevano le cose più indicibili. Parlo del mio viaggio a New York, che sono lì apposta per loro. La mail si chiude con un sì o un no. Il direttore creativo poteva cliccare sì, mi arrivava una mail precompilata, non doveva sbattersi, scriveva l'orario, scriveva il giorno, e mi diceva, mi fissava l'appuntamento. Cliccava no, non doveva sbattersi a scrivermi, mi dispiace. Mi arrivava già la mail, Davide, mi dispiace, non abbiamo voluto incontrarti. Grazie a questa storia, i risultati sono stati veramente straordinari. Ho ricevuto il 100% di risultati negativi. Allora, bisogna un attimo spiegarle, però. Il 70% effettivamente non ha risposto. Il 20% ha appunto cliccato no. Il 10% mi ha confermato il colloquio, quindi c'è stato anche un motivo di Gaudi inizialmente, però poi una volta presentati già si capiva che no sponsorship, nessuna possibilità, quindi proprio zero. Ovviamente la frustrazione aumenta, perché chi incontro tutti che hanno, in una maniera o nell'altra, realizzato il proprio sogno americano, e quindi cominciano a dire, New York ce la puoi fare. Tutti alla fine ottengono una possibilità qui. Quindi mi gioco la carta dell'incontro a sorpresa. Mi presento le agenzie e dico, raga, io sono qua, sono venuto apposta per l'Italia per voi, voglio un incontro col direttore creativo. Mi dicono che senza un incontro preparato, fissato, io non posso stare lì. dimentico che dopo l'11 settembre le policy di sicurezza sono un attimo, diciamo, cresciute. Quindi io insisto, dico che voglio rimanere lì, che voglio il mio colloquio, e loro mi fanno scortare da una guardia fuori. Vabbè, le cose non vanno tanto bene, quindi rientro in Italia. E allora dico, proviamo con Londra. Provo con Londra stesso mindset. Conosco gente, vedo direttori creativi. Qui va un po' meglio. Arrivo addirittura in finale con un altro art director inglese per il posto di art director in una importante agenzia pubblicitaria. Il direttore creativo però se ne lava le mani e dice, io non voglio scegliere, siete entrambi a pari livello. Quindi farò scegliere al copywriter il tuo futuro compagno di squadra, diciamo. e tra me e il ragazzo inglese chi pensate abbia scelto? Non ha scelto me, così vi rispondo già così. Quindi torno in Italia, sono disoccupato, mi conoscono più o meno come art director e quindi comincio a valutare l'idea che la mia passione da illustratore forse è da cominciare. Proviamoci, vediamo com'è. Quindi mi apro due siti, uno da art director e uno da illustratore. Oltretutto da illustratore per fare i passi giusti, contatto alcuni illustratori italiani chiedendo dei pareri sul mio stile, come lavoro, se potrebbe funzionare come carriera. C'è chi mi motiva, mi dà dei giusti consigli, e invece mi dice, senti, come art director ti stava andando bene in Italia. Continua a fare l'art director, non lascia stare questa cosa di illustratore. Non è una carriera che fa per te. Io mi intestardisco e mi apro questi due siti, pensando di raddoppiare le possibilità di clienti. Invece in realtà mi arrivano delle mail che dicono, ascolta, guarda che c'è uno che ha i tuoi stessi lavori, però c'è un altro nome. No, guarda, c'è un altro. Ma chi è quello che ha fatto i lavori? Mi piace l'illustratore che è di là, me lo conta. Sto facendo confusione, quindi chiudo il sito da art director. Provo a mettermi il cappello da illustrator e dico, raga, io sono un illustratore. Non è andata bene a New York le ultime due volte. Nel 2015 la frustrazione aumenta. Dico, senti, sai che c'è? Io ci torno. New York mi deve la mia possibilità. Io voglio il sogno americano e mi deve la mia possibilità. Riparto da illustratore. Mindset ancora diverso. La città la conosco, l'ho già girata, non mi interessa. So che andrò lì e contatterò tutti i giornali, le riviste, le agenzie di pubblicità, tutti i giorni. Non mi interessa. Non voglio andare in giro per la città. Appena atterro, contatto un'amica. Questa mi offre ospitalità nel suo ufficio. Lei fa l'agente di fotografia e dici, c'è tutto lo spazio per poterti mettere a cercare. Cerco mando mail per i successivi sette giorni, mando mail otto ore al giorno. E ricevo un totale tipo zero risposte. Al massimo le risposte che dicevo sono le risposte automatiche. Ciao, sono fuori per lavoro, non posso rispondere. Però a un certo punto succede una cosa. Mi arriva una mail, una mail inaspettata. Mi contatta il Washington Post con una proposta. Vogliamo metterti in copertina con una tua illustrazione su un tema. Washington Capitals, la nostra squadra di hockey, andrà molto probabilmente in finale. E noi vogliamo celebrare la prodo finale, diciamo. E qui arriveremo alle finali con una tua illustrazione. Ok, va bene, facciamola subito. No, c'è un però. Come c'è un però? Eh sì, stasera giochiamo la gara decisiva. Se vinciamo e andiamo in finale, illustrazione tua, sparata gigante sul magazine. Se non vinciamo, niente. Ah, e puoi avvantaggiarti se vuoi, così i tempi di consegna saranno più veloci. Però sappi che se perdiamo non ti verrà rimborsato nulla. Decidi tu cosa fare. Puoi aspettare anche la fine dell'esito della partita. Ragazzi, mi contate il Washington Post. Non comincio e inizio. Mando degli schizzi, loro mi approvano la prima, quella centrale. Sopra un giocatore simbolo dei Washington Capitals, sotto un giocatore di Tampa Bay, che sarebbe la squadra che avrebbero incontrato in finale. Comincio, la realizzo, la mando. Un'amica mi dice, senti, ma vuoi venire a vedere la partita? Perché guarda caso giocano contro New York. Andiamo a vedere la partita. Però questa mia amica mi porta a vederla nel covo dei Rangers. Per spiegarvela meglio, è come se io da milanista andassi a vedere il derby Milan-Inter nel covo di interisti sfegatati. Sto zitto, guardo la partita, mia birretta. Dopo tre minuti Washington segna, 1-0. Siamo a cavallo, ormai è fatta. Sta facendo anche la partita. Secondo tempo New York pareggia, un'azione fortuita. Veramente, lasciamo perdere. Washington fa la partita. Terzo tempo, non segna nessuno. Si va ai supplementari. Ai supplementari succede questo. I blu sono New York. Ecco, questi sono più o meno 800 dollari che vanno in fumo con un'azione difesa male. Ringraziamo Washington. Ovviamente, qui ho il crollo più totale. Ok? La mia unica possibilità. Questo è un segno dall'alto. Lo leggo come un segno dall'alto. Davide, lascia perdere. Fare l'illustratore non è il tuo. Non è il tuo. Hai avuto la tua possibilità, hanno difesa male? Basta, cambia. Fai altro. Fai l'hard director, ti usciva bene. Quindi, ovviamente, arrivo in ufficio, dove ero ospite, con un muso lunghissimo. Mi fanno cosa è successo. E allora evito di rispondere con parolacce e le spiego. Abbiamo perso. E mi fanno, ascolta, ma perché non prendi l'illustrazione che hai fatto, la cambi con New York vincente e la mandi ai magazine di New York? Sì, però, raga, io ci ho provato un sacco di volte. Cioè, ancora. Ancora per essere deluso un'altra volta. Non mi ha risposto nessuno fino adesso. Probabilmente non è il mio. Dovrò fare altro. Però poi alla fine mi passa questa, diciamo, questa mini-depressione. E quindi cambio l'illustrazione e realizzo questa. Comincio a mandarla ai vari magazine di New York. Il New York Times risponde. Mi dice, Davide, complimenti per il lavoro. Non ci serve, non la vogliamo, grazie. Però, se vuoi, passa. Ci facciamo due chiacchiere. Capiamo, insomma, come lavori. Eh, cavolo, non me lo dirò due volte. Prendo, chiudo la porta, esco, vado in ufficio. Corro sotto il New York Times e mando una mail che è casuale. Non pensavo di mandarla. Ciao, ragazzi. Casualmente sono qui sotto. Posso salire? Secondo voi cosa mi ha risposto? No. In realtà, sì. Cioè, mi ha risposto no. Vediamoci domani. Era una riunione. Quindi il giorno dopo facciamo la riunione. Però io non mi illudo. Alla fine la delusione è stata troppo recente. E quindi dico, vabbè, non si sa come andrà. Però sono contento. Ho tenuto il mio colloquio a New York Times. A un certo punto, però, dopo tre giorni, mi arriva effettivamente una richiesta da loro. Impazzisco. Mi dicono, Davide, hai cinque ore di tempo, perché c'è una breaking news. Hanno appena beccato Blatter con le mani nella marmellata. Blatter era l'ex presidente FIFA. L'hanno beccato che distribuiva mazzette insieme a tutto l'establishment FIFA. Serve un'illustrazione. Mi mandano l'articolo e io lì non capisco più niente. Infatti, più o meno, i ricordi vanno in sequenza così e più o meno alla stessa velocità. Mi chiama il New York Times. Urlo. Mi dicono, ma perché urli? Mi ha chiamato il New York Times. Ok, prendo. Chiamo un taxi. Salgo in taxi per correre a casa a lavorare. Chiamo la mia ragazza. Io ero a New York. Lei era in Italia. L'orario era favorevole. Mi ha chiamato il New York Times. Lei urla. Non urlare. Sono al telefono. Metto giù il telefono. Scendo dal taxi. Pago il taxi. Do la mancia. Troppa mancia. Non importa. Entro in casa. Accendo la luce. Spengo la luce. Si brucia la lampadina. Vabbè, non importa. Ne va giusto una. Allora prendo. Mi metto davanti al computer e comincio a lavorare. Ecco l'articolo. Pensa. Mando le proposte. Tutte incentrate su Blatter. Mentre aspetto che mi diano una risposta alle mie, diciamo, quattro proposte, cambio la lampadina. Arriva la risposta. Cannate tutte. La mia unica possibilità, bruciata, con delle proposte a quanto pare non a livello. Loro mi spiegano che erano tutte troppo incentrate su Blatter. E che invece era una cosa che doveva riguardare tutta la FIFA. Grazie. Ci hai provato. Il tempo è troppo poco. Insomma, va bene così. Ci hai provato. Mi faccio. No, ragazzi. No, vi prego. Datemi un'altra mezz'ora di tempo. Ma con mezz'ora di tempo avessi tre ore di tempo per realizzare l'illustrazione. Sei sicuro? Dammi mezz'ora di tempo e ti do l'illustrazione. Mi danno questa mezz'ora di tempo e comincio a pensare. Allora, FIFA. Cosa fa la FIFA? La FIFA organizza i mondiali. I organizzi mondiali. È la manifestazione più importante. Quindi hanno rotto la FIFA, no? Hanno rotto la FIFA. Faccio una Coppa del Mondo rotta. No, Coppa del Mondo rotta, no? La Coppa del Mondo è solida, no? Coppa del Mondo, mondo, mondo. Il Mondo è tondo, no? È tipo una lampadina bruciata. Faccio che hanno sgamato il mondo che hanno rovinato e quindi facciamo che hanno cambiato il mondo alla Coppa del Mondo. Mando questo schizzo. Appunto, due mani che ruotano. Lo vedono, me lo approvano subito. Vai, realizza l'illustrazione. Io, in tre ore di tempo, chiudo l'illustrazione. Che diventa così. Ovviamente l'art director dall'altra parte è felicissimo. Io sono lì che già mi sto pregustando la mia entrata in edicola, tipo mi dia la copia del New York Times. Per leggere sotto il mio nomino, sotto arriva una mail. Cosa c'è adesso? L'editor l'ha vista e ha detto, bellissima, eh? Però è perfetta per quando cambieranno tutto il management della FIFA e ci saranno le effettive dimissioni di Blatter. Ok, ma quindi questo quando succederà? E no, tra un anno. Come tra un anno? Effettivamente poi, sono sincero, è uscita. Un anno dopo, fatta in tre ore per la mattina successiva, però è uscita un anno dopo. Però diciamo che questa illustrazione ha rotto, diciamo così, degli argini e da lì ho continuato a lavorare per loro, per altri brand sportivi, dell'editoria, per pubblicità, per squadre sportive anche. Questi sono alcuni, appunto, dei progetti ai quali ho lavorato recentemente. Però, in conclusione, se sono qui a parlarvi, è perché sono un illustratore adesso al 100%, ma probabilmente, anzi, quasi sicuramente, se non mi fosse andata di sfiga per tutto questo tempo, ora non sarei qui a parlarvi. Quindi, in attesa della mia prossima sfortuna, vi ringrazio di avermi ascoltato. Grazie. Grazie.